Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Ammonta 8 milioni di euro la cifra destinata alle comunità montane della provincia di Sondrio, nell'ambito del piano Marshall, approvato definitivamente ieri dalla Giunta regionale, per contribuire alla ripartenza dell'economia degli enti locali e delle aziende. A far la voce grossa è la comunità montana della Valchiavenna, che avrà a disposizione 6 milioni di euro per numerosi interventi sulla viabilità, su tutta la messa in sicurezza della Statale 38. All'ente morbeniese è destinati quasi 900 mila euro per realizzare opere sul territorio, risorse preziose per dare avvio a una serie di progetti tra il 2020 e il 2021. Sono la ristrutturazione della Casa delle Guide, la sistemazione della piscina mandamentale, la sistemazione in parte dell'ufficio sede della comunità montana, una ristrutturazione parziale del polo feristico e delle sistemazioni stradali. Verrà completato il collegamento stradale sulla mezza costa retica fra Traone e Mello, interventi di pubblica utilità importanti sia per i cittadini che per il territorio. Il presidente della comunità montana di Morbegno, Emanuele Nonini, ringrazia la Giunta regionale per questo contributo straordinario, sottolineando l'impegno dell'assessore Massimo Sertori per il nostro territorio. Questa azione rappresenta, a mio avviso, una grande attenzione da parte dell'attuale Giunta regionale guidata dal presidente Fontana e nello specifico del nostro assessore Sertori, che rappresenta proprio una vicinanza al territorio, perché queste risorse erogate agli enti locali, quindi ai comuni e alle comunità montane, soprattutto legate anche al fatto che devono essere immediatamente cantierabili, sono l'infa vitale per le imprese locali e quindi permettono anche agli enti, come la comunità montana ad esempio, di poter manutenzionare il nostro patrimonio.